Adesso volevo affrontare una riflessione seria, cioè per quanto Međugorje sia un evento unico e per quanto la Madonna abbia anche ringraziato sempre la parrocchia per aver risposto alla chiamata anche nei recenti messaggi. Per quanto sia comunque il messaggio di Međugorje molto diffuso nel mondo, raggiungendo molti decine di milioni di persone, tuttavia possiamo ben dire che nell'insieme il messaggio di Međugorje non è stato accolto dal mondo, neanche dalla chiesa, per la verità. Dopo 42 anni, se vogliamo fare i conti, li ha fatti la Madonna stessa. C'è un numero enorme, neanche mi prendo in considerazione, ha detto che sono molto pochi quelli che capiscono veramente i miei messaggi. Recentemente poi, rivolgendosi direttamente a Međugorje, non c'è dubbio, nei messaggi del settembre dello scorso anno, del 2023 e del febbraio del 2024 sono messaggi rivolti in particolare a Međugorje, tenendo conto che la Madonna ha detto che tutti i messaggi che lei dà a Maria sono prima per la parrocchia e poi per tutto il mondo. Ma questi due sono particolarmente indirizzati alla parrocchia. Quello del messaggio, quello del settembre, 25 settembre del 2023, la Madonna mette in guardia gli abitanti dal modernismo che nega le apparizioni, anzi che nega addirittura il soprannaturale, quindi la presenza di Gesù e di Maria. E comunque sappiamo come la mentalità modernista abbia portato spesso a negare apparizioni che comunque avevano tutti i crismi, possiamo dire, i crismi della veridicità. Basti pensare per esempio al maltrattamento subito dagli adibonati e anche a quello non molto benigno di civiltà vecchia, nonostante tutta la fiducia, l'affetto e la fede di San Giovanni Paolo II. Perché la mentalità modernista è molto dura a morire. È un veleno che entra e che, come dire, acceca gli occhi, non ti fa vedere. Allora, poi c'è stato anche il messaggio del febbraio, il messaggio del febbraio di quest'anno, Val Madonna ha detto appunto che, come dire, la Zizzania proprio. Quindi il riferimento alla parabola evangelica è chiarissimo che la Zizzania ha preso molti cuori e li ha resi sterili. Quindi questo ovviamente, per uno che segue i Međugorje come me fin dall'inizio, e ho imparato a vedere tutti gli interventi della Madonna, sono stati tanti gli interventi della Madonna per realizzare anche la parrocchia. Sono stati anni anche molte volte drammatici, come quelli all'inizio, anni 84-85, come quelli dei tempi di guerra. E come quelli ultimamente che vi ho accennato, stanno a indicare che rispetto a una parte delle persone che risponde alla chiamata c'è una parte non piccola, perché se la Madonna ha detto la Zizzania ha preso molti cuori, vuol dire che la Zizzania ha preso molti cuori. Quindi il rischio di una non risposta alla chiamata è presente. E quindi la Madonna, so che si sa che la Madonna non sa già il futuro, ma non per niente ha già anticipato i due segreti, i due primi segreti che riguardano Međugorje e non sono piacevoli, ha detto Miriana. Allora, quello che volevo dire è che purtroppo questo è un fenomeno che è tipico nell'apparizione mariana. E cioè c'è sempre una parte di persone che si oppone. Questo è vero per Lourdes, è vero per Fatima, persino la mamma di Lucia era contro sua figlia. Questo è vero per tante altre apparizioni e questo è vero anche per Međugorje. Questo è vero per Međugorje in parte, perché all'inizio, i primi anni, i primi decenni forse, c'era tutta la parrocchia che seguiva e che credeva. Forse c'era uno o due o tre persone che erano i vecchi militanti del Partito Comunista che erano rimasti fuori, ma la caratteristica dei Međugorje è che c'è sempre stata un'adesione ai messaggi della Madonna. Tant'è vero che la Madonna più di una volta ha ringraziato anche dicendo, so che voi non tradirete la mia presenza qui. Sì, lo ha detto nel messaggio del 25 gennaio del 1991. Però ultimamente non c'è dubbio che c'è una presenza, una nuvola di incredulità che si va estendendo. Io questo, devo dire, un po' degli anni con la Madonna di Međugorje. L'ultima volta è stata nel 2018. Però io già parlando con alcune persone di cui sono amico, che poi sono anche persone anziane, saci, che hanno vissuto tutta la storia, che mi dicevano, guardi padre, che la prima generazione era straordinaria, la seconda un po' meno, la terza, quella dei nostri ragazzi. Adesso non si prendono neanche più cura delle apparizioni. Sì, forse una minoranza, ma queste sono parole dette da persone che sono solo nonne che hanno visto i figli e i nipoti, per così dire. Quindi non c'è da meravigliarsi che a questo momento subentri la falsa sicurezza che ormai Međugorje è riconosciuta come un santuario, che comunque la Chiesa, almeno la prima settimana, sembra che abbia approvato, comunque sembra che abbia ipotizzato l'apparizione della prima settimana. Ha lasciato anche aperto per il futuro, però poi di fatto adesso circola la voce che non risultano apparizioni e poi per quanto riguarda i veggenti staremo a vedere, insomma, in poche parole, un clima che io non avevo mai riscontrato, ho sempre riscontrato un clima di grande rispetto per i veggenti, invece adesso mi pare che siano quasi davanti a una certa opinione pubblica, siano quasi resi colpevoli per dire che incontrano una madonna. Mi dispiace dire queste cose, però, insomma, se non siamo, senza voler puntare vito con nessuno, ma se non siamo sinceri fra di noi, allora a cosa serve? Non serve a niente, cioè. Quindi, cari amici, è chiaro che si sta realizzando qualcosa di inedito, a mio parere, benché poi arrivano i pellegrini, eccetera, 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 però si dice, ma, cioè, le stesse apparizioni da una parte della popolazione sono messe in dubbio. O comunque, tanto meno, tanto più, poi i segreti, eccetera, eccetera, i messaggi, insomma, sembra che credere all'apparizione sia diventato una colpa, credere all'apparizione sia quasi diventato una colpa, è chiaro che siamo fuori strada. Mi permetto di dire, lo dico, io parlo della gente, non parlo di cose, parlo della gente, perché se non ci fosse una decisione della gente non ci sarebbe un fenomeno del genere. Se c'è un fenomeno del genere perché c'è la decisione della gente? Scusate, la madonna parla mica a Fambora, se parla di modernismo che nega le apparizioni, se parla di zizzania vuol dire che, ovviamente, la zizzania cresce in mezzo al grano, quindi, questa è una situazione di pericolo, a mio parere, è una situazione di serio pericolo. Perché dico questo? Perché per motivi professionali miei, personali, cioè di approfondimento, ho studiato a fondo l'apparizione di Kibeho. a Kibeho è venuto la medesima cosa. Cioè, non proprio la medesima cosa, perché a Međugorje per anni e anni c'è stata una decisione molto vasta, molto decisa, alle apparizioni, ai messaggi vecenti. Questo fenomeno è un fenomeno degli ultimi anni, forse dell'ultimo decennio, forse anche qualcosa di più, che la secolarizzazione, il tenore di vita, eccetera, eccetera, ha finito per prevalere. Allora, e quindi è una situazione di grave pericolo questa. Ed è una situazione che prepara i primi due segreti, che sono, sono severi. Non così severi come gli altri dal quarto al decimo, ha detto Miriana, ma lo sono, però sono gravi, ha detto. Prepara questa situazione. Allora, vi dicevo che per motivi professionali ho studiato a fondo l'apparizione di Kibeho, perché dovevo fare anche un'intervista a Natalia, lui dovevo essere preparato. E mi sono accorto, leggendo questa intervista, che a Kibeho non c'è stata un'accoglienza dei messaggi della Madonna. Cioè, mentre a Međugorje c'è stata, per la verità. Qui non c'è stata. La maggioranza delle persone non ha creduto alle apparizioni. Anche all'interno del collegio, suori, barocchi, eccetera, c'era una profonda divisione. Il messaggio di conversione che la Madonna ha fatto a Kibeho non è stato accolto. Anche quando sono state rivelate quelle scene terribili di cadaveri nel fiume e nei grandi laghi, non hanno creduto. Non hanno creduto. E poi tutto è accaduto. Io, e poi vi metterò sul mio blog, vi metterò una relazione ben fatta, molto bella, su Kibeho. Dove viene scritto proprio la dispiacere della Madonna. Perché non c'è stata una risposta. La Madonna che dice, se piango è perché voi uomini siete in uno stato così critico che io non posso più trattenere le lacrime per voi. Figlia mia, io ho aperto le porte, ma essi non hanno voluto entrare. Ho visto che il mondo era quasi moribondo e sono venuta in suo soccorso e voi mi avete rifiutato. E aggiunse, essi desidereranno sentire quello che io ti incarico di dire loro, quando sarà troppo tardi e non avranno più nulla da salvare. E tutti quelli che non sicurano di ascoltare il messaggio che voi trasmettete loro, che cosa aspettano, che cosa aspettano, non si rendono conto che il tempo si fa breve. E lo stesso giorno Natali dice, sono afflitta anche per il fatto di vedere quanti peccati non cessano di aumentare sulla terra, quando dovrebbero diminuire il giorno in giorno. In presa profonda afflizione la Vergine prosegue. Il mondo va assai male e se voi non fate nulla per pentirvi e rinunciare ai vostri peccati, guai a voi. È proprio questo che continua a farmi male. Io voglio liberarvi da un baratro perché voi non cadeate, ma voi rifiutate. Come potrei io essere contenta quando vedo i miei figli prendersi gioco di me? Prendersi gioco di me? Non macchiamoci mai di una cosa del genere, di prendersi gioco della Madonna. Quando potrei io essere contenta? Come potrei essere contenta quando vedo i miei figli prendersi gioco di me ed essere sul punto di cadere in un abisso e perdersi? Sono venuta da voi per comunicarvi un messaggio che vi richiama quello che avete dimenticato, ma voi rifiutate di accoglierlo. Da allora io soffro molto, ma so che sopportate tutto con pazienza. Ecco, cari amici, a quel punto, cari amici, Natali, dopo che la Madonna gli ha detto avverrà un giorno in cui voi desidererete pregare, pentirvi e obbedire senza più la possibilità di riuscirvi, a meno che non lo facciate da adesso, cominciando a pentirvi e a fare tutto ciò che attendo da voi, a quel punto ci avverrà un giorno in cui voi desidererete pregare, pentirvi e obbedire senza la possibilità di riuscirvi. A quel punto Natali ebbe una visione di sangue, orrore, simile a quella avuta da Alfonsin. Un abisso in cui gli uomini cadevano in gran numero senza potersi salvare. E la Madonna disse i peccati sono più numerosi delle gocce d'acqua del mare. Il mondo corre verso la sua rovina. Il mondo è sempre più cattivo. Tu, cari amici, quello che volevo dirvi è questo. Stiamo attenti, stiamo attenti a non lasciarci, come dire, permeare da questa incredulità che può essere qualcosa di più di incredulità. È sarcasmo, è presa in giro, è in sofferenza verso quelli che ci credono, è volontà di sradicare tutto, di sterminare tutto. Ebbene, cari amici, stiamo attenti a non entrare in questa dimensione perché il risveglio sarà molto doloroso. A questo riguardo, cari amici, vorrei che voi andassi sul mio blog perché c'è una bellissima lettera di Paolo che mi dice, Padre Levi, io stavo leggendo, sentendo la sua trasmissione su Chibeco, a un fatto momento, quando lei parlava appunto delle visioni che hanno avuto le ragazze, dei laghi pieni di cadavri, dei fiumi che lasciavano molti miliardi di morti. La stessa Chibeco, questa cittadina di 60.000 abitanti, ha avuto 20.000 morti trucidati, ha avuto a quelli bruciati nella chiesa, cioè è stata colpita duramente anche con la cittadina lì. Anche una vergine è stata uccisa, Marie Clerc, il suo marito. Ebbene, cari amici, mi dice, quando lei ha letto queste cose, parlando di Chibeco, mi ha avuto in mente subito Međugorje. E mi sono detto, ma come noi possiamo obliterare, cancellare, non parlare, diminuire, oscurare, oscurare, disprezzare, irridere. Le rivelazioni sui segreti non faremo mica per caso la fine che ha fatto in Ruanda. E cioè che in 15 e più 15 e più 15, in un mese e mezzo, si sono massacrate a colpi di macete un milione di persone. Cioè, quello che la Madonna in Ruanda ha predetto si è realizzato. Perché? Perché non hanno, non sono cambiati. Allora, i segreti di Međugorje si realizzeranno? Certo, non ha detto che si realizzeranno, ma si salveranno quelli che sono cambiati, quelli che ci credono, quelli che si aprono alla grazia. Ma per gli altri cosa succederà? La Madonna ci si desse le mani tese a loro voce, però dovranno pur cambiare. Cioè, dovranno avere l'umiltà di chiedere scusa, di chiedere perdono. Non è una cosa facile in 4 e 4 e 8. Cioè, qui si tratta di prendere sul serio la Madonna. Avete visto a Chibeco cosa è successo? Avete visto che se fosse a Chibeco? La Madonna ha profetizzato, non è stata creduta. Hanno disprezzato le veggenti, sono andati avanti per la loro strada e cos'è successo. Si sono ammazzati fra di loro, si sono autodistrutti. Allora, noi stiamo facendo la medesima cosa, adesso con Međugorje. Non crediamo, prendiamo in giro, disprezziamo, alziamo le spalle, mentre il mondo va verso la rovina. Stiamo attenti, stiamo attenti. Deus non irridetur. Dio non si può prendere in giro, il potere è suo. Bene, carissimi. Allora, amate sul mio blog, vedete la lettera bellissima di Paolo, questo accostamento fra Chibeco e Međugorje è la mia risposta. Amate sul blog, blog di padelivio.it, se usate Google, se usate il sito radomeria.it, in cima c'è l'icona, entrate, nel blog vedete la bella lettera di Paolo, che va a questo accostamento fra Međugorje e Chibeco è anche la mia risposta questa lettera, la mia riflessione. Mi tocca, mi tocca, cioè, dico queste cose in coscienza, perché non dirle, ma poi se non le dico mi sento in colpa davanti alla Madonna, non posso non dirle, devo dirle, devo dirle. E dobbiamo pregare. Preghia di intercessione, giorno e notte e penitenza. È questo che dobbiamo fare.